Bella raga, andiamo con la terza missione, dai 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 Anch'io le vorrei Va bene No Ce la faccio Ma che bel caratterino Mate, ti mangio Ci sei? Fai strada Gangster Avamposto abbandonato Dai Volevo vederci chiaro Ma anche a me non dispiacerebbe Stone era un legionario di ferro Mi fidavo di lui Buono, ci sta È figo, è figo Ma perché? Cioè io mi dovrei fermare ogni volta Vabbè Per i cavalieri queste cose le schippiamo Penso che per i vichinghi e per i samurai invece faremo 100% Con tutti gli unblockable e tutti gli osservabili Wait, i breakable E gli osservabili Perché parli in inglese Bucky Perché non so l'italiano E quindi Parliamo inglese Easy C'è una guardia bassa Quindi viene l'attacco lento Voi magari non lo sapete però Il warden Ha due attacchi Dall'alto Pesanti Nasce una meraviglia Un vetro nero Ma dai Ho fatto due passi Vabbè Comunque ha due attacchi pesanti Uno Dalla stance top E uno Quando fai Dalla stance di lato Vai a quella top Mi sembra semplice Ovunque siamo andati Abbiamo abbandonato i nostri Cos'è successo La legione di ferro Aspetta qui Mi occupo del ponte O non lo sa O non ce lo vuole dire Vabbè Vediamo Devo fare il guardrake Vai 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 Guardate che figata Mamma mia Che bello 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 Comunque dicevo I due top attack Del warden Per quando lanci la gente Sono Uno così E l'altro Ho sbagliato Uno era come quello Che ho fatto E l'altro era come questo qua Non so se Se riuscite a capirlo Ma se state molto attenti Praticamente Dopo Che hai spinto via Una persona Contro il muro Se avevi la guardia In alto Prima di spingerla Riuscirai a colpirla In alto Senza che lui Si possa difendere Se avevi la guardia Di lato Non riesci a colpirlo In alto Perché riesci a Bloccarlo prima Per il ferri Buono Spine 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 Nice Andiamo Andiamo Si si può usare La guardia Per difendersi Anche dagli altri Va bene Che attacco era Strano Mai visto Qua cos'è Stendardo Ok È la cura Overtime Va bene Potrebbe essere utile Tra l'altro Sto perdendo Un botto di tempo Su sti Sti tizi Nabbi Con lo scudo Quando potrai O Portarli qui E appenderli O Fare guard break E attacco pesante Bravo Non ci riesco K Cioè Non che non ci riesco Non mi viene da farlo Uh Ho provato a periare Non sono riuscito Vortex Go Tac Fake top Che dodge Che ho messo Raga Mai visto Ste cose Kidding Dai Ok I kinghi Non erano Intrepidi Vabbè I do no Gli dirmo Tu Io finora Ero dentro A un castello Con un tizio Che non sapeva Fare niente Quindi non lo so Come sono i viching Go 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 Raggiungi Cavalieri Ribelli Dopo di te Apri Bravo Muro invisibile Peccato Per quel muro lì Peccato Però vabbè Ci sta Abbattimento Ma guardate Canidio Ossidiana Per piacere Ahia Non sono riuscito A periarlo Tiviamo Una Una curetta Una curetta E se no Io dico sempre Che è easy Sta modalità Però Prendo certi colpi Che non stanno Né in cielo Né in terra Tipo questo Ok Non pensavo Che avrebbe Deggiato Volevo fare L'esecuzione Però va bene La lava È meravigliosa Raga È veramente Meravigliosa Oh Dai Dai Ok Muro Muro Calco pesante Top Mi viene da giocarmela Come Come country player Di farle finte Eccetera Però forse qua Sono un po' inutili Le finte Non so Che danni Che sopredendo Regen No Ok Abbiamo fatto in tempo A prendere un po' di Di HP Oh Vendetta Rigeneriamo Tiriamo la vendetta Così prendiamo lo scuro E va bene Questo è un minion Ok Disertori Ok È qui la festa Boys No No Erano membri Della legione di ferro Volevo ammazzarli tutti Ogni legione Ha lo stesso giuramento Ah Cosa era successo qui Dimmelo No eh Niente Non me lo dice Mi sa tanto di gangbang Ho un po' paura Perché avete abbandonato Le postazioni Un cane Della legione Di Ossidiana È uscito Dai ranghi Getta Quell'arma La tua gente Ha bisogno Di te Maia Perché mai Combatti Per polio Guardiana Ho fatto prima io Una domanda Rispondite A mate Non trollare Uno dei due Deve andare a cambiarsi Perché avete abbandonato Le postazioni Niente Non risponde Uccideteli Ah beh Sì Proprio Avremmo dovuto farci strada Con la cosa Mi ha regalato la vendetta Un macello di vendetta Ok Direi che Ammazziamo lui per primo Che prova a scappare Tra l'altro No Non Non si è riuscito A fare il perro Eh I don't know Maybe Probabilmente Sì Ok Quanti Ancora due Non avremo Mai risposte No Non ho le ali di fuoco Aia Oh Vai Apollyon Io sono un po' affezionato Ad Apollyon Per il background Che ha Poverina Cioè Devo ancora capire Un botto di roba Però so che È diventata così Perché da piccola Il lowbringer Che difendeva La sua città Se n'è andato Poi lei è cresciuta L'ha cercato L'ha ucciso E si è presa La sua armatura E l'ha modificata E tanta roba Quindi un pochino Mi dispiace per lei Per la sua famiglia Che arriva Un giorno si sveglia Tipo Non so Lo sceriffo Di quel posto lì E fa No basta Fate schifo Vi lascio qua morire Me ne vado E va bene Quindi lei ha smesso Di credere Nella giustizia In tutte Oh Brava Apoglion Brava Brava Aia Però brava Ci sono Ossidiana Oh sì Let's go Quanto fa brutto Beh Ah Ok Guardalo con la manina Bravo Bravo Sì sì Ma che vuoi fare Sapete quali creature Non attendono altro Che essere macellate Le pecore Mmm Aia Pecore Aia Ah No Ok quindi A noi non piace molto Quello che fa Apoglion Però Oramai Siamo suoi Benvenuti nella legione Di Ossidiana Ci ha rapiti Tipo Avevo le risposte Ma era tardi Infrangere il voto Di guardiano A un prezzo Aia Aia Aia